ciao ragazzi benvenuti o bentornati in questo novissimo video però prima di cominciare ramadan kerim a tutti i musulmani al mondo ragazzi oggi ho queste informazioni molto importanti per tutte le persone che vogliono andare in africa con un volo diretto da italia diritto al tuo paese senza scali in marocco in etiopia in turchia in francia qui in italia vai diritto al tuo paese con il volo diretto puoi andare nel tuo paese con la ricevuta senza problemi e ragazzi questo volo si chiama ita è un volo di governo italiano adesso vi dico quale sono il paese che possiamo andare dritto con ita e west il primo paese è gana secondo e senegal quindi per ora da italia puoi andare dritto in questi due paese con ita e west e ragazzi il primo volo comincerà il 6 giugno 2024 quindi se sei di senegal se sei di gana ragazzi questi qua aiuteranno tantissime persone perché ci sono dei problemi quando prendiamo un volo di cui facciamo il scalo tipo quando fa un scalo in un altro paese africano arrivi qualche volta il tuo bagaglio non arriva hai capito però per ita e west tutto andranno bene quindi il volo partirà da roma a gana o roma a senegal partiranno anche dei grandi città tipo bologna torino milano quindi vi verranno a prendere tipo da bologna a roma quindi da roma a gana o in senegal quindi ragazzi se vi piace più informazioni come questo vi chiedo di andare a seguirmi sul facebook commentate mettete un bel like così posso darvi informazioni in italiano grazie e ci vediamo nel prossimo video ciao